Alla maratona ha partecipato anche qualcuno che siamo abituati a vedere in Alto Raveste, Gottardo, giusto? Gottardo, esatto! E come vai qua alla maratona? Una passione che non conoscevamo? Una passione che non conoscevamo, che non conosce e dà gioia e felicità. Se si ha voglia di correre. Eh sì, e adesso ci mangiamo un bel piatto di bongole. Esatto, per restare in tema, giusto? Esatto. E sempre attenti, Gogevo, sono sempre attivi su questo. Lo sono, ti, a Baccia Dona. E complimenti a loro che sono in cucina a lavorare e allena e poi che ha messo a disposizione tutta la struttura e la logistica. Grande, grande squadra. Comunque ti sei goduto Chioggia, vi siete goduti Chioggia? Bellissima esperienza e ottima organizzazione. Splendido. Perfetto, allora vi lascio ristorarvi che ne avrete anche voglia. Grazie. Grazie, grazie, ciao. Ciao, Giana. Grazie a tutti.